musica 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 via ciao sono AliGamer perchè mi stai menando perchè mi piace menarti comunque siamo insieme ad AliGamer ancora nella MarioCraft e stiamo iniziando un episodio di notte eh certo dai andiamo a dormire tu dormi all'aperto e io dormo ah grazie che bello io l'aperto e tu dentro dai buonanotte dormirei guardando le stelline che bello meno meno un lupo a me se mani uno scheletto sta avanzando verso di te uno scheletto? grazie ho delle spianiforme attorno questo figlio che si inventa? è un effetto di fame c'è tanto fame? Vediamo la LOOK non riesco più a mangiare che stai scavando? non so un cazzo è un montone paricella vado a prendere del grano guarda pure il grano ah già dimenticavo delle spalle nell'inventario Sprinter of New dove stai andando? mi voglio ammazzare che fai? quel posto lì lo conosco lo conosco dove sei? sul liceo di Mario c'è la pixel art di Mario quindi deve essere un posto che conosco aspetta quel pesciolino laggiù me lo ricordo da qualche altra parte mi puoi dare un punto di riferimento? ah ecco ho già trovato l'isola di Mario ho delle piume posso volare? tu stai farmando cactus c'è anche dei fiorellini sono quasi arrivato io uso il mio scettro che fai? vuoi uccidere Super Mario? noi fai un po' di buchetti perchè non lo griffiamo? io c'avevo della TNT mettela, mettela ah non ce l'ho più un giorno me la chiverò e fai mongrier non lo ritrovate la TNT dai corri la fila degli scioglilingua avevamo vinto della TNT ma l'ho persa in seguito a un incidente uccidiamo Mario perchè non ottengo i fiorellini? povero Mario lo stiamo lo stiamo ammazzando siamo dei genocisti ah ma cosa mangio? dai andiamo a nuoto nel fiume andremo a casa e mangiamo qualcosa dai vieni dai vieni al fiume vuoi modificare la pixel art? no vogliono salire e distruggelo ma vuoi colpirlo proprio alla testa? è una specie di boss fight devi salirli sulla testa per poi colpirlo boss fight contro Mario quasi una cosa omosessuale ma beh va bene e ci sono altri ben fiorellini per il mio giardino ah panini piostata di pesche perchè? come lei? dove hai tu? eccomi al mio castello il mio castello l'hai proprio trafitto mi sembra impossibile dai vieni a casa sto con i pangoli da mangiare era di cena dov'è la casa? lì lo sa? no quella lì è la direzione sbagliata vai lì nell'insenatura che ti ha indicato e qual'è l'insenatura? girati girati da quell'altra parte girati ancora vedi quell'insenatura? entri dentro vai a nuoto e sei a casa non è ancora notte e poi dopo di questo video ne fermo un altro e poi dopo basta come no? io vado via silenzio io ok io vado via silenzio io silenzio ok vado via nooo aio ti vengo incontro aio sto arrivando sto prendendo un valico che collega i due punti ma che stai scavando? voglio recuperarmi i due no 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 la una torcia una torcia che ho disotterrato AliGamer Esci! Questo buco si è assoluto peristetica In un prossimo episodio fai un monumento che diventerà il luogo della Ziggy Shark o Q Che sei degli iscritti di AliGamer Fiori che... Ok, il nostro non è lato per suicidare No! Perché ti vuoi suicidare? Buttati fuori! Buttati fuori! No! Che fai? Allora, posso andare? Sì, però dopo di questo episodio ne fermo un altro Da Jack... No! No! Amico! Amico! Non posso andare? Sì! Da Jack 700... Ecco! Da Jack 700... YaliGamer... Ciao! 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 Ciao!